Signori, questa sera sono proprio incazzato! Sì, sono arrabbiatissimo! Arrabbiatissimo! Perché come hai vinto 4-1 e sei arrabbiato? Sì, sono arrabbiato! Ma hai fatto una grande partita! Sì, sono arrabbiato! Non dovevate prendere quel gol! Semplicemente non dovevate prendere quel gol! Vi siete fatti infinocciare tutta una squadra! Si è fatti infinocciare Anatan compreso Portiere compreso! Ma che te ne frega ha vinto 4-1? Sì, me ne frega! Perché sarebbe stata una partita perfetta! Sarebbe stata la migliore partita non da quattro settimane, ma da sei mesi signori! Questa, dimenticando quel gol, è la migliore partita del Napoli almeno da sei mesi a questa parte! Sì, perché gli ultimi due mesi di Scudetto, rendiamo grazie a Spalletti, grandissimo autore dello Scudetto che ci ha fatto vincere lo Scudetto, però gli ultimi due mesi signori, il Napoli ha giocato una schifezza! In casa faceva partite pietose! Signori, 0-0 si sprecavano! Signori, con la Salernitana, addirittura spostammo la partita in un orario del giorno dopo, per poi poter fare grandi festeggiamenti, figura di merda assoluta! Niente di meno, non si fece rifresteggiamenti! Non si poteva fare! Dalla mattina, gente che sbandierava pronta a festeggiare, niente! Perché? Perché aveva arricciato con la Salernitana in casa! E per due mesi, ogni domenica si aspettava, diceva, oggi vince lo Scudetto, oggi vince lo Scudetto, oggi vince sempre 0-0, 1-1! Partite di schifose! Diciamo quello che è! Questa è una partita maiuscola di un grande allenatore, signori! No, se poi cambia, cambia, però stasera uno che vede questa partita dice, questo è un grande allenatore, è chiaro! Quindi, scherzando, non scherzando, perché è vero, sul fatto che le ultime partite dell'anno scorso, per due mesi, il Napoli ha giocato una schifezza e queste partite non le faceva mai! Una partita spettacolare, con una perfetta tranne che ho fatto proprio quello che si è fatto a fare la Schammerchick, e si è fatto a tutta la squadra! Quindi, signori, questa, credo che, prima di tutto, tutta quella gente, i tifosi che dopo mezz'ora, Bologna, perché anch'io ho criticato, criticatissimo, era rimasto molto perplesso dopo la partita col secondo tempo con la Lazio. Dice, com'è che si è fatto così? E figuriamoci che dopo il primo tempo e tutta la partita alla fine con il Geno. Però dopo si è visto, anche Bologna lascia stare, ma a Bologna si era una persona che capisce un po' di calcio, aveva capito che il problema era risolto. E io l'ho detto, migliore partita del Napoli. Dice, vabbè, ha fatto 0-0. Che significa ha fatto 0-0? Il calcio è fatto così. Adesso io non ho visto la partita. L'Inter, signori, ha perso 2-1 in casa. E noi abbiamo vinto 2-0 con il Sassuolo. Quindi il calcio è così. Se dopo mezz'ora, dopo mezz'ora di un secondo tempo, non eravamo abituati. Certo con la Lazio a vedere il Napoli improvvisamente in confusione, sia con Lazio sia con Geno. Non eravamo abituati, siamo d'accordo. E Barbarocchi è una persona che trae le conclusioni così. García non è da Napoli. Ma capite che le cose vengono fatte piano piano? Io quando ho visto la partita di Bologna, ho capito tutto. Ho capito che l'ho mai rincanalata. Ho detto chiaramente l'altra volta dell'altro video che il Napoli farà una grande partita. E l'ho fatto. Più grande di quanto mi aspettassi io. Quindi è inutile stare proprio a discutere. Questo è il miglior Napoli. Da sei mesi a questa parte. Quindi il migliore Napoli di García, se continua così, è il migliore del Napoli di Spalletti degli ultimi mesi. Stop. Però questo non c'è, perché ormai lo Scudetto era vinto. Quindi è ovvio, non sto dicendo che García sia meglio di Spalletti. Però sicuramente questa è una partita di un grande allenatore. Va bene? Che ha fatto spettacolo. Che se non pigliava questo gol, non capisco come fanno a dire che difensivista è García. Che attacca sempre. Se non prendeva questo gol, sarebbe stato praticamente... Praticamente per due partite avranno fatto due tiri le altre squadre. Comunque. Grande partita. La gente, i tifosi, sono ignoranti, la massa e così. Non è che tutti siamo ignoranti. Però uno sapendo che non può sapere tutto, si sta attento. Non va a dire, García non sei un deficiente. García vi ha dato una lezione. Grande calcio, signori cari. Ma quello che mi preoccupa sono i tifosi. No, i tifosi, i giornalisti. Alcuni giornalisti veramente hanno esagerato, sono stati ridicoli. Il guaio è che queste persone non pagano mai. Ecco, un allenatore va male, lo cacciano. Un giocatore va male, oiettini da un nizzo. Tutti quanti al lavoro, non va bene, ti licenziano. Per i giornalisti no. Loro possono dire qualsiasi cosa, con arroganza. Possono dire, questo Napoli fa schifo, García non è buono. Però dopo uno si dimentica. E continuano. Poi dopo magari dicono, beh, effettivamente basta. Cioè, perché non pagano niente? Perché non pagano mai queste persone? Comunque, grande partita del Napoli. Napoli, come vedete, il calcio è fatto così. Dopo pochi giorni l'Inter ha perso. Ma l'aspettavo, ma sono andato a vedere il risultato. Ma ha perso l'Inter. 2 a 1. In casa con il Sassuolo. Quindi, vi fa capire che il calcio è così. Ci sono dei momenti per tutti quanti. A differenza che l'Inter, comunque è una squadra collaudata. C'ha un allenatore. Ecco, poi secondo loro, quindi loro dovrebbero cacciare ad Inzaki. Immediatamente dovrebbero cacciare ad Inzaki. Ha perso. Fuori Exaki. Non è buono per l'Inter. Diciamo che l'Inter, a un certo punto... Il Napoli stava... Parliamoci chiaramente. Amichevoli il Napoli non ne ha fatte. Questo, secondo me, è un demerito della società. Perché tu hai un allenatore nuovo. C'è una cosa. Tu non puoi provare bene i giocatori con quelle partitelle sul campetto di... Come si chiama? In Abruzzo. Quindi, è ovvio che cosa. Quindi, dopo la prima partita, la seconda... Al primo impatto si è andato in confusione. Alla prima cosa. Però, sono due partite che sono andate male. Lascia stare la Coppa. Dovevamo fare dieci gol. Stai... Sono due partite che sono andate male. A Bologna hai due riprese e oggi hai stravinto. Quindi, non è possibile fare due o tre settimane di quello. È una cosa ridicola quello che è avvenuto. Ma veramente ridicola. Le persone... I tifosi... Si sputeranno in faccia quelle persone che hanno detto... Schifo... Peggiore allenatore. Quanto mai? È un grande allenatore. E lo dimostrerà. E lo sta dimostrando. Comunque, lasciando stare... Lasciando stare... Signore, che dobbiamo dire? Vogliamo stare a giusti carti di singolo? L'ha giocato tutti bene. Tutti quanti. Qua Laschela si è sbloccato. Qua Laschela ha fatto una grande partita. Ha fatto così. C'aveva una rabbia enorme. Perché, andando poi a festeggiare, si baciava tutti quanti. La faceva un'orgia là con i giocatori. Se li baciava, si faceva. Non capiva più niente. E si stava proprio... Perché evidentemente questo stava al colmo. Dice io... Perché lui... Vedete... A noi... Lui fa riferimento alla Georgia. Lui è diventato una specie di persona di riferimento tale. Perché tutti quanti aspettano questo. Vedendo partite brutte per 4-5 mesi. Dice... Allora... Lui si sente molto responsabile. Immaginate voi che tutto il paese lo sta guardando. Pensando che chissà che devi fare. Invece non fai niente. Poi... E niente, basta. Signori cari... E... No, va bene. Sono contento perché... Perché... Vedere un Napoli forte... Sono contento. Questo Napoli... Perciò dico attenzione. Perché io dissi... Dopo la seconda partita... Fa che questo Napoli possa addirittura essere migliore di quello di Spalletti. Spalletti. Poi... Successe il patatrac di quelle due partite. Eh... Però lo dissi in che senso? Perché vidi... Vidi... Vidi questa sua... Tentativo di essere molto più credibile. Questo Napoli è molto più... È più imprevedibile. Almeno vedendo questa partita. Devi continuare così. Questo Napoli è più imprevedibile di quello di Spalletti. Spalletti... Vedi... Politano a un certo punto ha dato quella palla a Osimene. Ma Politano stava a una parte che con Spalletti non stava mai là. Quindi lui giocando a destra poi è andato a finire a sinistra. E in quel momento si è trovato. Quindi ha scombussolato pure le difese... Diciamo avversate. Non ha capito che niente. E da palla a Osimene. Quindi i giocatori si sono intercambiati cose. Quindi... Io... Non lo so. A fare una riflessione eccessiva stasera no. L'importante... Perché sinceramente... L'importante è che il Napoli sia tornato. Napoli... Possiamo dire... Con sicurezza che il Napoli è forte. E... C'è stato questo regalo di San Siro. Che sinceramente ci fa molto piacere. Quindi grande Napoli. Grande... Migliore partita del Napoli. Da sei mesi a questa parte sei. È chiaro? Garzia sconfigge tutti. 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 Ha dimostrato come si gioca a pallone. Signori cari... Adesso basta. Basta. Aspettiamo la prossima. E quindi speriamo che venga riconfermato. Non è facile a legge ma noi vinceremo. No.